I porci, i maiali porci! E niente, un saluto a tutto il pubblico della gleba youtubesca, siamo live, è appena uscito l'aggiornamento di Alchemy Eldraine e non potevo non fare per prima cosa il mazzo dei maiali porci. Io non lo so se veramente sarà effettivamente un mazzo, non credo. Vedremo però io lo devo provare. Perché uno sapesse il mazzo basato sui tre porcellini e sulle due carte, le tre carte che ne abusano fortissimo, che sono la Swann Rebellion che se le hai tutte e tre ne caga altri tre uguali, il portento porcino che con tre è esilio e guadagno punte vita per quanti porchi ho e dà più uno più uno a ogni porco e congiura un porcellino e poi cinque mana cinque cinque che congiura il porco in campo oppure ne resuscita tre dal cimitero, è una roba proprio porca! E poi vabbè, Goford, Trott e Peddler non puoi non giocarli. Non c'è She Oldred, non c'è Anello, non c'è niente, voglio solo andare full porchi, proprio dritto full porchi e non voglio sentire niente. L'unica cosa che voglio sentire è voi in chat e voi nei commenti che scrivete nei commenti DICE DICE perché avete scaricato DICE DREAMS. Dice DREAMS, lo sponsor di ottobre, ci sponsorizzerà per tutto il mese e per tutto il mese potete usare il mio link che trovate in descrizione nel commento pinnato su YouTube e il link in chat per scaricare sul vostro telefono in tre secondi gratuitamente il gioco e poi basta, avete fatto, avete già contribuito alla GLEBA, basta solo il download, ogni singolo download aiuta a raggiungere il più alto numero di download possibile e fare ancora bella figura con lo sponsor. Vogliamo fare brutta figura con lo sponsor? No, bella figura con lo sponsor, scaricate DICE DREAMS, per voi sono tre secondi della vostra vita, per me è tanto, tanto, tanto. Anche perché voglio dire, me lo merito, vi porto il mazzo coi porchi. Sera, serag. Posso fare porco into porco into porco? Guardalo. L'umano vorlocco. Questo è Sileanello. Il porco che Sileanello. Sileanello sembra un posto, tipo Cale Steglioncello. Porco. Porco. Secondo porco o terzo porco? Che bello sapere che non ci sono gli orchetti. Merda. Oddio. Ok. Oracolo dell'Alfa, Romeo. Ma che carta incredibile. Vabbè. Secondo porco? Sto aperto di gofo? O faccio un altro vorrac? Secondo porco? Sto aperto anche di esilio. Dai raga. I porci esiliano Anello. Allora lui non può più fare Anello in curva perché il porco lo esilia. Il nerf dell'Anello. I porci. I porci maiali porci. Guardalo. Sbava. Sbava perché è un porco. Sbava. Sbava. Oppo non era pronto all'aggressione su Ina. Poi 4-4 volante vince le partite o sbaglio? Fai Anello. Fai Anello. Non l'ha fatto. Va bene. Signori world first. World first. Tre porci in campo assemble. Ho assemblato i porci. World first. World first. Ho assemblato i tre porci. che poi bad song ragazzi che ora non ci sono gli orchetti ecco madonna quante carte gli orchetti di merda avevano completamente mmm però eh scusè è little tipo no porchi ciao Delmo cosa hai fatto ieri porchi quanto è bello poter andare in giro e dire ciao io lo sai sto giocando a magic ho montato un nuovo mazzo che lo sai ah io gioco sneak attack eh sì sì no perché io giocavo splinter twin ragazzi io gioco lotus field combo in modern sì sì tu cosa giochi i porchi gioco i porchi bella porchi ah questo è interessante che poi comunque tremana esilio instant anche se non c'hai i porchi è tornato dottori è tornato sback io sto algoratata pericca perché è il peggiore da interagirci di sì sappiate che crucias è di nuovo una realtà forte crucias forte crucias sai anche cos'è forte? il porco esilio o poi col mazzo leggende che fa le leggende e poi le leggende io porchi io porchi capo i porchi i porchi sono fortissimi oh no questo non lo dovevi fare you were not supposed to do that che carta incredibile che carta incredibile è questa verde nero bianco nero questo è forte in culo io risporco due scusa è il porco tre da vado zoda grosso però io gioco for the throat ma referring forte pretty strong pretty strong posso attaccare vero non posso attaccare ma sai cosa posso fare girare lo sporcheros che lethal no non c'avevo lethal purtroppo e scaricare dice dreams raga io vi ho portato i porchi come primo mazzo potevo fare rakdos con crucias potevo fare potevo fare l'aggiornamento dei maghi e io per voi perché vi amo vi ho portato i porchi e voi non scaricate dice dreams vergognate vergognetevi scaricate dice dreams ora i porchi comunque abzam maiale è imbattibile cioè non lo so io sto andando dritto dritto porchi non non so cosa dire ehi cosa ragazzi il raduno si farà ma si farà ad anno nuovo l'ho già detto stagione un po' più calda tipo marzo del prossimo anno ok nero peddler porchi questa terra è bomba forte cioè proprio è tanto buona sta terra ragazzi mi 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 Uli ho tutti aspetto allora Sul telefono Bumblebee sul telefono Devo editarlo avevate ragione Ti prego Ti prego Ti prego Fai anello Terranello Maledetto Non cambiarei Non posso perdere Non posso perdere Invincibile Cincilla Vediamo se riesco a mettere Il 100% win rate Sul nome di Della thumbnail Perché Per ora Sì Iliana è il più fastidioso di tutto Perché non ci arriva a Kaya Sono immuni a the end Perché li congiuro Mi ci sta troppo bene Col mano Si Oppi Sono troppo forti Non ha senso sta cosa Lui sta arrancando Di removal Per stare dietro Ai maiali Dire questa cosa È proprio bello Nella vita Capito Mi fa di endo sul porco Li ricongiuro Ragazzi Non è un problema Il volante porco Questo elimina E' vero Non ci pensavo Ma figura Non ce l'avevo pensato Me lo sto tenendo per anello Comunque Perché lo puoi fare una volta sola Ragazzi È one time Quindi Uno te lo dovresti tenere per anello Lui diventa grosso Ma lui già vola Eh non mi conviene Sì sì Attivala solo una volta Ora se io pesco Quella che resuscita Questo lo è uscito A 5-5 Oh no The end Adesso come farò Tanto su un porco Sbagliato Secondo me Però vabbè Devole Dai dai Faccio l'ital col maiale Esilando il juggernaut E' bella sta Gaia Non mi sto neanche impegnando Fai sette manavirtù Nooo Il porco Lascia stare il maiale Come ti permetti Non ce la faccio ragazzi Non riesco a perdere Non riesco a perdere 4-0 Così I porchi maiali Oh Marco Il rogia della fenice Non sono competitivi ragazzi Sto mazzo non può essere Giamato in best of 3 Però è tipo Il re del best of one Questo è un matchup interessante E' zone Scusa E' zone E' zone Scusate E' zone Scusate Madonna Guarda Subito tutti Scusate 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 Si ritorna al signore degli anelli Devi stare calmo Devi stare calmo Scusate 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 E' tad Scusate Dominic Scusate 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 Feltone Il cane Fifone ok Marco molto bene 3, 2, 1 vinta come vuoi riprende danni fanculo se trovi i botti bene è 5,5 questo eh è 5 mana 5,5 vanilla eh comunque dopo che ha risuscitato 2 o 3 pezzi il culo è grosso è una giganta siiii l'abbiamo fatto siiii cinghiali assemble godo mi ha parato un porco con godrick i porci io non ce la faccio questo è 5,0 ragazzi cosa fa? anche se vuole e fa 4 danni ora con godrick dopo io faccio con il porcim portento con tieni il prosciutto con tieni il prosciutto perché l'istantario si chiama tieni il prosciutto guadagno 5 punti vita 5 punti vita ce la faccio ce la faccio il prosciutto il prosciutto il prosciutto il mazzo prosciutti allora cazzino 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 per i quattro cazzino per i quattro cazzino cazzino per i quattro e che cazzino per i quattro per i quattro cazzino per i quattro Grazie HP Grazie per i quattro mesi Salve per i porchi Ebbè Sì, 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 sì Sì, come godo Come godo Il maiano Il maiano Che si mangia i relli Godo Invincibile maiano Oh, io non ce la faccio È troppo bello sto mazzo Non ce la faccio Non ci riesco Non ci riesco Io, 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 io non ci Io sono troppo felice Grazie Fiumaro per il sesto mese Nice Sì Quasi volevo ignorarla Terra Guardalo come piange Il Nettdeccatore di Alteriax Guardalo E ti segue È zero Diamond Porchi